Instant Focus, ben trovato in nostra compagnia, un approfondimento che riguarderà il Regno Unito, in particolare quello che sta accadendo a livello economico e finanziario considerando La Brexit che avrebbe dovuto essere un muro contro il quale la finanza inglese avrebbe potuto e dovuto Secondo le prime stime scontrarsi e invece le cose sono un po' diverse Attenzione però perché Brexit vuol dire muro in qualche modo, vuol dire un ostacolo importante Nei confronti di chi sta cercando di accedere al territorio britannico Soprattutto per quanto riguarda il lavoro e poi la stretta attualità tra variante Omicron La riapertura e Boris Johnson che continua ad essere nei guai causa Partygate E allora non perdiamo tempo, diamo il benvenuto ad Alessandro Allocca in collegamento con noi da Londra E si trova peraltro in nostra compagnia, eccolo qua, tra Winston Churchill e il Big Bang Quindi una posizione direi particolare Alessandro, buongiorno, come mai proprio lì oggi? Sì, intanto abbiamo un po' di movimento, please guys, please, we are online Abbiamo un po' di movimento qui a Parliament Square Perché, lo hai anticipato te, i vari Partygate che coinvolgono Boris Johnson E ci sono persone che stanno protestando Però vi voglio anche offrire un po' della tipicità di Londra A parte il tempo con una pioggiarella leggera leggera che sta accadendo Però c'è Winston Churchill con il suo occhio vigile sul Parlamento, su Westminster E dall'altra parte il Big Bang che dopo cinque anni finalmente torna al suo splendore Con nuovi colori, una nuova luminosità Diciamo ecco, un po' luci ombre di questa Londra Quindi Ale, è in corso una manifestazione, diciamo un piccolo corteo di protesta Contro Boris Johnson e contro di fatto le notizie che sono emersi in queste settimane Cioè questo Partygate, questi feste che si sono svolte durante il periodo Covid Dove l'assembramento non era propriamente una buona idea Sì, confermato, magari adesso con la mia voce non si possono sentire Però a non più di 70 metri di distanza da me, alle mie spalle Ci sono di cortei di persone che stanno protestando Che in un certo senso, li stavo anche vedendo prima di collegarci Sono gli stessi volti di coloro che nel corso degli anni precedenti Degli ultimi due anni hanno protestato contro la Brexit Che addirittura loro definiscono come il Titanic che sta andando verso l'iceberg Ecco, a proposito di Titanic che va contro l'iceberg Sembrava che, per quanto riguarda l'economia e la finanza Adesso li sentiamo un po' di più i manifestanti Ma diciamo che fa colore e fa diretta Un po' come gli inglesi che ti si sono piazzati davanti Proprio all'inizio del nostro collegamento Dicevo, a livello economico e finanziario Sembrava che la Brexit dovesse essere effettivamente l'iceberg Contro il quale la nave britannica si sarebbe andato a scontrare In realtà, e lo dice anche il nostro titolo London Stocks Exchange Un 2021 da record E lo vediamo anche nel nostro primo cartello Nel nostro primo grafico L'inizio del 2021 è stato complicato Lo spostamento di molti asset e di molti capitali Dall'Inghilterra all'Olanda Poi però facendo il bilancio finale Abbiamo 122 matricole sbarcate sul listino Record dal 2014 17 miliardi di sterline di capitali raccolti con le quotazioni Anche qui record dal 2007 Una raccolta di capitali sul mercato primario superiore a Parigi e Amsterdam Insieme in tutto 50 miliardi Se consideriamo anche le emissioni secondarie Infine ricordiamo che il 2021 è anche l'anno del divorzio da Borsa Italiana E la fusione con Refinitiv bandiera americana Tutto questo per chiederti Alessandro Ma non doveva essere Scusate Brexit non doveva essere Diciamo così L'inizio della fine Per il Regno Unito Allora Sì Tu hai fatto un'analisi Dal punto di vista finanziario e economico Che peraltro nasce A sua volta Da un articolo di Simone Filippetti Del collega Del Sole 24 ore Da quale prendo anche io spunto Il mio intervento Che per l'appunto lui traccia un'analisi Di questo inizio del 2022 A 12 mesi esatti dall'uscita del Regno Unito Dall'Unione Europea Che ricordiamo Per quanto il referendum si è svolto nel 2016 Però ci sono voluti tutti gli anni successivi Per settare un pochino la macchina I rapporti E quindi effettivamente dal 1 gennaio del 2021 L'UK ha abbandonato il Regno Unito Scusate L'UK ha abbandonato l'Unione Europea In questi 12 mesi Secondo il più Sarebbe dovuto essere una sorta di disavventura Quella vissuta dal Paese Soprattutto dal punto di vista finanziario Invece i numeri dicono l'opposto In particolar modo ci ricolleghiamo anche A un collegamento che facevamo Qualche settimana fa In cui Londra si riconferma Capitale europea È il secondo polo attrattivo a livello mondiale Dopo la Silicon Valley Per quanto riguarda i capitali raccolti Nel settore high tech Tant'è che anche nell'articolo di Simone Filippetti Tra le società Tra i brand Tra i business Ecco che hanno raccolto maggiormente di più Ce ne sono due Una è Oxford Nanopure Che è una società che opera Nel sequenziamento del DNA Quindi una società high tech Che ha raccolto ben 8 miliardi di sterline E lo stesso anche un colosso Del fintech Che è Wise E questo conferma come Londra Sia ancora una volta Un polo attrattivo Molto molto importante Che in un certo senso Quasi Non gli interessa Dell'abbandono Del Regno Unito Dall'Unione Europea Quindi Quasi non viene intaccata per nulla Dalla Brexit Anche Anzi Vedendo i numeri Sembrerebbe quasi Che ne stia Trendo vantaggio Peraltro Ribaltando un po' anche Le previsioni Di chi Diciamo Inquadrava La Borsa di Londra Troppo legata Al Al settore bancario Al settore appunto Dei servizi finanziari E poco legato al tech Quello che ci hai raccontato Ci racconta insomma Esattamente Il Contrario Quindi particolare Così come molto particolare Ale Il fatto che Mi pare di ascoltare Che i manifestanti C'erano cantando Bella ciao Confermi Sì 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 Perché Grazie ovviamente La serie Televisiva Spagnola Se non ricordo male Si è sdoganato Dall'Italia Quindi è diventato Un inno di libertà Per tutti E quale Situazione migliore Se non questa Della Brexit E di coloro Che vorrebbero Il Regno Unito All'interno dell'Unione Europea Può essere Effettivamente Un inno Bene Magari vediamo poi Che cosa Che cosa aggiungono Insomma Al Al loro Insomma Al loro pacchetto Al loro bagaglio Canoro Andiamo avanti Continuando a parlare Di Brexit Ma in maniera Diversa Nel senso che abbiamo Prima tu citavi Giustamente Insomma Simone Filippetti Il collega che salutiamo Il Sole 24 Ore Citiamo anche Londra Italia Che ha riportato Un dato interessante Nel senso che Effettivamente L'effetto Brexit Si vede Per quanto riguarda L'immigrazione E lo vediamo In un altro cartello Eccolo qui Immigrazione La mano pesante Della Brexit Sono oltre 12 mila Gli europei Bloccati alla frontiera Tra gennaio E settembre 2021 Pensate Nel 2020 Erano 1150 Certo è che C'è anche La questione Del Covid Che ha paralizzato Ulteriormente Il 2021 Però insomma Siamo davanti A due numeri Assolutamente Significativi In particolare Sono quasi 400 Gli italiani E sono quarti In una diciamo Ipotetica classifica Dietro Romania Oltre 7 mila Bulgaria Polonia Motivazione Mancanza dei requisiti Per lavorare E insomma Qui Alessandro Vediamo La mano pesante Appunto Della Brexit Soprattutto parlando Dell'immigrazione Sì Luce ombre Della Brexit Prima abbiamo visto La parte Diciamo Più luminosa Adesso invece La parte più dark Se possiamo utilizzare Un termine in inglese Che è per l'appunto Quello che Nel momento in cui Il Regno Unito Ha abbandonato L'Unione Europea Ha di fatti Anche deciso Di uscire Dalla Dalla libera circolazione Delle persone Tra stati membri Questo quindi Sta a significare Che coloro Che vogliono giungere In UK Dagli altri 27 Stati membri Ex 27 stati membri Se visto in chiave di Londra Italia compresa Adesso non possono più Farlo come Per decenni è avvenuto Come l'abbiamo fatto Noi da studenti Da ragazzi Che venivamo Semplicemente O con la carta D'identità O con il passaporto E potevamo rimanerci Per tutto il tempo Che volevamo Dal 1 gennaio 2021 È scattato Il nuovo schema Sistema Appunti Schema Appunti In poche parole Qualora una persona Volesse venire A lavorare In UK Deve rispettare Delle credenzialità Particolari Non si può più Entrare E venire Magari Lo dico In chiave Giovani A fare camerieri A fare pizzaioli A cercare fortuna Partendo un po' Dai lavori Di base Quindi Molte persone Molti ragazzi Che magari Ancora Non erano a conoscenza Non si erano ben informati Sono giunti Alle frontiere Del Regno Unito E alla domanda Da parte Della polizia Di frontiera Britannica Ok voi Perché state entrando Quei Quasi 400 Italiani In particolar modo Gli hanno detto Per cercare lavoro Assolutamente no Tornate indietro Infatti Sono persone Che non hanno Come si può Ben vedere Anche dal cartello Non hanno I requisiti Non hanno avuto I requisiti E' ovvio Che c'è anche Una sorta di mano Pesante Lo dicevi prima Da parte Dell'home office Che è L'organo Di controllo Del flusso migratorio Proprio perché La volontà Del partito Conservatore Che è il partito A maggioranza Dal quale Ovviamente Proviene Il leader Nonché Primo ministro Bori Johnson È quello di Bloccare Il più possibile L'accesso Di mano D'opera Dall'estero Per far vedere Come la Brexit Non vada Ad intaccare Il mercato Del lavoro Perché Il Regno Unito Può far leva Sui propri Cittadini Cosa che Anche in questo caso Abbiamo visto Nei precedenti collegamenti In realtà Non è così Perché Il mercato Del lavoro Britannico Sta soffrendo Tantissimo Per la mancanza Di persone Che nell'ultimo anno Sono rientrate Nei paesi Di origine Covid E Brexit Le due principali Motivazioni Lasciando a piedi Nel vero senso Della parola Settori chiavi Come l'hospitality L'agricoltura I trasporti E quindi Tornando alla notizia Ci dobbiamo immaginare Questi italiani Noi abbiamo anche Titolato Brexit Sei europeo Tu non puoi passare Come dice Un film Un vecchio film Pluripremiato Agli Oscar Ma sostanzialmente Questi europei Che si presentano La frontiera Vengono respinti Rimangono Insomma In aeroporto Quanto meno Bloccati Dopodiché Sono costretti A tornare A rientrare In patria Va così Sostanzialmente Sì Va così Assolutamente È ovvio Che è inimmaginabile E Parlarne Sembra quasi Anche ironica La cosa E sembrerebbe Prendendo spunto Da quello che dicevi te Una situazione Da film Perché mai Avremmo immaginato Che una persona Che partiva da Milano Da Roma Da Palermo Napoli Tanto per citare Alcune Delle tantissime Città italiane Direzione Londra Si sarebbe ritrovata Con il cancello Serrato No Tu non puoi entrare Torna indietro Ovviamente Parliamo di persone Che vorrebbero Entrare nel Regno Unito Per questioni lavorative Ma che non hanno i requisiti Se una persona Vuole entrare Per turismo Esiste Il pass Il visa Per il turismo Che gli permette Di stare qui Per sei mesi Per altre questioni Di studio Assolutamente Si può fare Quindi non immaginiamoci Una sorta di muro Come voleva tirare su Trump Verso il Messico Andando avanti Andiamo Diciamo Passiamo alla stretta attualità Nel senso che appunto È in corso questa manifestazione Vediamo anche Uno dei partecipanti Che a volte appare Nell'inquadratura Boris Johnson Sta rischiando Grosso A livello di Diciamo così Credibilità Carisma Agli occhi Dei suoi Dei suoi elettori E ti chiedo Se effettivamente La stampa britannica Al momento Si sta concentrando Di più Su di lui E sul partygate O sulla questione Variante Omicron Che in buona sostanza Potrebbe Spingere La politica inglese A uscire Dalle restrizioni Rinunciare al green pass E forse anche Alla mascherina obbligatoria No assolutamente La questione Omicron Covid È passata Addirittura In terza posizione Tra le notizie Degli ultimi giorni Il primo Ci sono i partygate Il secondo È il principe Andrea Con Ah giusto Sì La condanna Il processo Anzi Il processo civile Che deve affrontare In America Per le accuse Di violenza sessuale Verso minorenni Però ecco Concentriamoci Sui partygate Come mi chiedevi No La stampa britannica Sta andando Anche in questo caso Di mano pesante Contro Boris Johnson Perché stanno uscendo Delle magagne Che non vedono Per nulla Bene Il futuro Del primo ministro Che sta diventando Sempre molto più Incerto Notizia di questi Ultimi giorni Che sembrerebbe Che Nel momento in cui Ricorderete Perché è stato Il primo ministro Al mondo Ad essere stato Contagiato dal covid E andare In terapia intensiva Boris Johnson Nei 20 giorni Precedenti Alla terapia intensiva In realtà Era Positivo Lo sapeva Ma non l'ha mai detto Proprio perché Voleva portare avanti Questa sua Politica In cui il covid Più di tanto Non spaventa È uscito In questi giorni Così come I vari party gates Le feste Prima Del funerale Del principe Filippo Ad opera sua Ma anche ad opera Soprattutto Dello staff Che Come si può vedere Non è per nulla Intelligente Come staff Quindi si aggiunge Ai parti A cui Mi pare Di aver capito Boris Johnson Non abbia partecipato Direttamente Ma si aggiunge Insomma A questo scandalo Dei festeggiamenti Di questi assembramenti Nonostante Il periodo Non fosse Non fosse Diciamo Agevole Da questo punto di vista Si aggiunge anche Il fatto che Boris Johnson Sostanzialmente Abbia mentito Sì Assolutamente In realtà No Su alcuni parti Ha partecipato Solo che si tratta Di parti Che non ha Ovviamente Organizzato lui In prima persona Ha organizzato Il suo staff Il problema Qual è Per questo Parlavo Dicevo prima Utilizzavo il termine Poco intelligenti Per il semplice fatto Che ovviamente A parte non rispettare La regola E la legge Di quel periodo Che evitava Che obbligava Le persone A non incontrarsi Ma soprattutto L'invito a quei parti Avveniva attraverso Uno scambio di email E come puoi immaginare Nel 2022 Con tutta questa Tecnologia Con il fatto Che tutti Condividono tutto Mi sembra davvero Strano Che lo staff Non avrebbe Non immaginava Che queste email Prima o poi Sarebbero uscite fuori E infatti Sono uscite E sono diventate Come dire Una sorta di Chiave Per attaccare Di strumento Per attaccare Boris Johnson E beh insomma Sono diventati Anche virali Immagino poi Tabloide Anche online È facile Che insomma Situazioni di questo tipo L'abbiamo visto Anche in Italia In più di un'occasione Diventino appunto Virali In questo senso Alessandro Io ti ringrazio Per essere stato qui Con noi E lì credo Mi sembra di capire Che comincia anche A piovere O comunque Insomma Il freddo è forte Sì Temperature abbastanza Basse Siamo sui 4-5 gradi Una lieve Leggera Inglese Però ormai Vivendo qui Da dieci anni Mi ci sono abituato Se fossi stato in Italia Sicuramente andavo già Subito in un bar A chiudermi Ma ormai Abbiamo Preso la mano A questa situazione Climatica Grazie a te Giacomo Comunque per l'ospitalità Grazie ad Alessandro Allocca La Repubblica Da Londra E per averci raccontato Un po' Le ultime Da Londra Guardando la Brexit Guardando gli scandali Che riguardano Boris Johnson E Downing Street Con un occhio Insomma Rivolto anche a quella Che di fatto È una realtà Insomma Un Regno Unito Che fa parte Dell'Europa A livello geografico Ma non più A livello politico E anche Insomma Economico finanziario Vedi appunto La separazione Dalla borsa italiana E quindi Si diventa Realmente In Si passa Diciamo Alla competizione Reale E non più Insomma A questioni Magari Di sinergia E di alleanza Questo era il nostro Instant Focus Approfondimenti Interviste Notizie E rimanete sempre Con noi Qui sulle fonti TV